Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Rettini, titolare dello studio Rettini, studio di consulenza aziendale, tributario e finanziario indipendente, relativamente giovane con circa 10 anni di attività. Lo studio è uno studio molto dinamico, vocato alla crescita dimensionale ma soprattutto efficiente dei propri processi. Ho accettato ben volentieri la sfida di Tueppi. Tueppi è una realtà molto dinamica, dotata di personale molto ma molto attento alle esigenze della propria clientela. Cosa dire? Tueppi è uno strumento facilmente intuitivo e facilmente implementabile, quindi possono dire che dalla gestione collaborativa delle mail alla gestione personalizzata di progetti e pratiche al monitoraggio costante di quelle che sono le attività dei propri collaboratori, in una sostanza nulla viene lasciato, nulla è incompiuto, quindi tutto è correttamente monitorato. Con Tueppi si coglie in un'ottica di qualità a quella che è la standardizzazione dei propri processi interni ma che possa essere poi nel tempo rivisitata sempre in un'ottica di miglioramento continuo. Quindi possiamo dire che i tempi si sono relativamente ridotti, abbiamo più tempo da dedicare alle nuove sfide del mercato, alla ricerca di nuovi business e soprattutto importante è che abbiamo più tempo da dedicare ai nostri clienti. Quindi cosa dire? Grazie a Tueppi è soprattutto un consiglio spassionato a tutti coloro i quali hanno un grande interesse nella rivisitazione costruttiva della propria operatività. Grazie e buona giornata.